Potremmo assistere per la prima volta un'inversione di questo schema, cioè se dovesse arrivare una bullrun, quanto è probabile che non raggiunga più i massimi precedenti BTC? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a rispondere alla domanda che questo utente mi ha fatto lo scorso video, penso quello di mercoledì, se non ricordo male è una domanda molto interessante, molto riflessiva, che riguarda il lungo periodo di Bitcoin e insomma si struttura in questo modo, Bitcoin ha sempre avuto un'oscillazione tra alti e bassi alternando quelle che erano delle fasi di bear market a quelle delle fasi di bullrun, Però l'utente chiede, potremmo assistere per la prima volta in un'eventuale nuova bullrun all'inversione di questo schema di alternanze bear market bullrun, bear market bullrun? E quanto è probabile che una successiva bullrun di Bitcoin, se anche dovesse arrivare, non riesca a raggiungere i massimi storici attuali intorno ad aria, 69 mila dollari? Come bisogna ragionare in questo caso? Quali sono le indicazioni che possiamo andare a trovare? Esiste effettivamente una logica che ci può dare un calcolo di probabilità su questo evento? Parliamo di serie storiche, quindi ovviamente di conseguenza ragazzi parliamo di mondo aleatorio, non di natura definita diciamo alla puntuale, ecco diciamo così, Quindi dobbiamo sempre ragionare appunto in termini di probabilità, ma proviamo a fare questa cosa, andiamo. Prima di portarvi sul grafico di oggi che vi darà la possibilità insieme a me di scoprire questa cosa, di provare a farlo ragazzi, perché lo faremo proprio insieme dal vivo, Vi do una chicca, una news che è uscita un paio di giorni fa per quanto riguarda Nexo ragazzi, Nexo fa una promo che secondo me è molto interessante per chi vuole provare questo servizio di Sefai, La promo è iniziata il 22 maggio e finisce il 30 giugno e i premi sono estremamente ghiotti ragazzi, perché per i nuovi utenti che si registrano ragazzi, Vi lascio il link in descrizione per la registrazione e per usufruire di questa promo, per i nuovi utenti che si registrano Nexo dà questo regalo, insomma abbastanza importante ragazzi, Cioè se voi andate poi a mettere gli asset in uno dei loro fixed term, come diciamo struttura di earnings, vi restituiscono questo reward per le cifre che sono qui indicate, Quindi da 10.000 euro ovviamente a salire, 10.000 dollari scusate, a salire, perché un milione di dollari li posiziona, vi restituiscono 10.000 dollari, l'1% in sostanza ragazzi, va bene? Per chi ha 100.000 dollari vi restituiscono 1.500 dollari e per chi ne ha 10.000 dollari vi danno un bonus di 250 dollari, In più è stato alzato anche il tasso di rendimento per quanto riguarda le stable e le crypto che vengono lasciate sulla piattaforma, E poi il 14 luglio viene distribuita questa somma, allora solo fino al 30 giugno si possono anche sommare i vari fixed term che voi create sulla piattaforma di Nexo, Come si creano? Basta avere le crypto depositate, poi si va su earnings e si dice fai un fixed term, per esempio quello sui dollari, sulle stable coin può essere fatto ma di 3 mesi, non c'è quello mensile, mentre quello di bitcoin può essere fatto anche a livello mensile, Infatti qui fanno anche un esempio e vi dicono 3 mesi, vedete, USDT, fixed term, un mese BTC, fixed term. Allora, la promo è interessante, vale solo per i nuovi, non vale per i vecchi utenti, quindi purtroppo per i vecchi utenti ci attacchiamo al tram ragazzi. E' interessante da questo punto di vista, vi lascio il link in descrizione, ma ricordatevi ragazzi, not your keys, not your crypto, Questo significa che una volta che noi utilizziamo questo tipo di servizi di Sefai, bisogna capire che stiamo dando via le nostre crypto, E questo impone l'obbligo di riflettere su quello che state facendo, perché se la piattaforma dovesse avere qualche problema a fallire, Come è capitato a Celsius, a BlockFi, nello scorso anno, e succede il macello, o anche FTX, a FTX diciamo era più un exchange, Succede un macello ragazzi e quant'altro. Ora, anexo a le Pro4Reserve, è sempre stata abbastanza stabile, però ricordatevi che i rischi inerenti a questo tipo di servizi sono abbastanza alti ragazzi, Quindi, quando utilizzate queste cose, fate un po' i vostri conti, quindi ragionate su queste cose, io stesso, insomma, faccio in questo modo. No ragazzi, metto qui quello che so che posso mettere a rischio di questo tipo, per ottenere una rendita. Poi c'è sempre il bilanciamento, ottengo la rendita e il rischio, insomma, è questo. Si può fare niente, mannaggia queste cose ragazzi. Forse una regolamentazione risolverà questi problemi definitivamente, così potremmo anche utilizzare le cripto per ottenere delle rendite, perché avendo magari delle regolamentazioni avremo magari gli organi competenti che ci danno una garanzia maggiore. Vabbè, detto questo, torniamo alla questione, era interessante questa promo ragazzi, io non ve ne dico mai, ma questa è veramente interessante. E quindi, eccola lì. Allora, questa questione legata al fatto se Bitcoin, ne in una successiva eventuale bullrun, potrebbe effettivamente non raggiungere mai i massimi storici. Io ho indicato la fase di massimo indicato da questo livello, che è il bianco, adesso andiamo a ragionare un po' sulla struttura di quello che è successo nelle precedenti fasi bullrun. Allora, l'utente innanzitutto si fa riferimento, vedete, all'alternanza di queste fasi, cioè fa riferimento all'alternanza di fasi di bear market, dove poi Bitcoin ha strutturato delle fasi di ripresa di bullrun estremamente rilevanti. Anche qui, bear market, bullrun, bear market, bullrun, bear market attuali. Ora, dov'è la differenza, ragazzi? E come iniziamo a ragionare su quello che è la domanda che è stata fatta, cioè la probabilità che un'eventuale fase di bullrun che sia iniziata, ad esempio qui, non riesca ad andare al di sopra di questo livello di massimo. Che quindi si vada a configurare quello che è il concetto del mercato cammello, di cui abbiamo parlato a gennaio del 2023, quando abbiamo iniziato a strutturare l'idea che i mercati, soprattutto i mercati classici, potessero effettivamente andare in un concetto di mercato cammello su e giù, ma non burnanna, per i prossimi 10-15 anni. Allora, fatto questo tipo di ragionamento, anche Bitcoin può seguire quella strada. Intanto, può o non può? La risposta a può seguire la strada di fare un mercato cammello, vi faccio vedere la figura, mercato cammello è un mercato che fa bar di congestione in questo modo, ragazzi. Bitcoin può o non può? Intanto è sicuramente può fare una cosa del genere, perché non esiste nessuna forma di analisi su una cripto che ci possa dare una fase di base, diciamo, un valore di base sotto il quale è difficile che quella cripto possa scendere. Teoricamente su Bitcoin si può ragionare molto ragionando sulla questione del mining, e il mining un po' ci dà forse una valorizzazione al di sotto del quale andare poi, se il prezzo dovesse andare al di sotto di quel livello, i miners sarebbero in forte difficoltà, si sarebbero a staccare le macchine, si creerebbe un effetto spirale ribassista nel calcolo della potenza di Bitcoin e questo indica, ragazzi, che sostanzialmente è difficile magari che si possa scendere sotto il livello di breakeven, cioè di minimo, di zero guadagno per i miners. Detto questo, è sempre possibile che questo accada in ogni caso, anche perché i miners potrebbero comunque staccare le macchine, a volte è accaduto, infatti. Quindi è vero che esiste questo modo di calcolare la questione, però non possiamo esserne comunque certi. È sicuramente un buon modo di calcolare un livello minimo, ma comunque non ci dà quella sicurezza. Quindi che il mercato, che Bitcoin o una cripto, possa oscillare n anni facendo una barra di congestione, è il mercato cammello, è assolutamente possibile. Quanto è probabile? Questo è in effetti poi la risposta della domanda. Allora, la questione della probabilità, secondo me, va divisa in due strutture diverse. Primo, l'analisi di quelli che sono i dati fondamentali, il tasso di adoption dei mercati delle criptovalute, e dove siamo in questo momento, e poi la seconda, invece, quelle che sono le analisi di natura statistico-matematica, cioè quelle che riguardano l'analisi tecnica e l'analisi dei cicli, eventualmente, delle bullrun, e cosa ci hanno indicato nei dati passati. Quindi, analisi per quanto riguarda la situazione attuale dei mercati delle cripto in specifico per Bitcoin, ragazzi. Punto primo, adoption. L'adoption nei mercati delle criptovalute è il fulcro, cioè è quella che è la struttura fondamentale di valorizzazione di Bitcoin stesso, del valore di Bitcoin. Il valore di Bitcoin si basa molto di più sull'adoption rispetto a tutto il resto, quindi l'adoption è fondamentale. Nel 2022 e 2023 il tasso di adoption delle criptovalute è stato decisamente frenato rispetto agli altri anni. Quindi, cloud option ancora stenta ad arrivare, è lontanissima, anni luce. Nel 2022 abbiamo visto anche alcuni istituzionali provare l'utilizzo di Bitcoin. A fine 2022 è successo un disastro, nel 2021, scusate, perché c'è stata la questione Tesla, eccetera. Nel 2022 è successo un disastro, gli istituzionali si sono tirati indietro, addirittura ci sono anche possibilità di problemi di liquidità, magari per Gerscale, eccetera, che erano istituzionali che portavano, no, questo baluardo di adoption per Bitcoin. Quindi, in sostanza, è crollata adoption? No. Però una battuta d'arresto, assolutamente sì, l'ha avuta e come. Quindi la questione adoption dei mercati delle criptovalute non è su un trend molto florido, è comunque in un trend positivo perché esiste sempre l'attenzione a questi mercati e perché le istituzioni guardano a questi mercati in maniera molto attenta. Ma complice il tasso di interessi che sono alzati, che sono saliti, e quindi la modalità risk on, risk off dei fondi e degli istituzionali, complice il disastro che in stessi mercati delle cripto si sono portati dietro con i vari fallimenti e l'incompetenza di alcune istituzioni dimostrata, palesemente, nel 2023. Sapete che una cosa del genere non può minimamente piacere agli istituzionali. E poi, terzo punto, la questione della regolamentazione, che è uno spettro, quindi, a legge come Batman, insomma, su Gotham City. A legge, dov'è il mio Batman? Dove è stato? Oh, ragazzi, scusate, ma dovevo trovare il Batman. In realtà sono due. Questo è quello originale di quando abbiamo aperto il canale. Questo era l'altro che era arrivato, diciamo, poco dopo, ma io preferisco sempre lui, l'originale, ragazzi, il Batman originale. Sapete che faccio? Li li metto qui, entrambi, come si faceva qualche anno fa, e li lascio qui, a vegliare sulla moneta piccola. Vabbè, allora, detto questo, ragioniamo sulla questione regolamentazione. Regolamentazione, ragazzi, appunto, come il signor Batman, sta sulla città stile Gotham City, quindi un po' roppere scatole, però, da questo punto di vista. Quindi, in questo caso, noi possiamo ragionare anche sul fatto che, fino a quando non ci sarà una regolamentazione, soprattutto nei paesi come Cina e Stati Uniti, importante, l'adoption generalizzata di Bitcoin, come moneta di scambio, viene sempre un po' frenata. Quindi, tasto di adoption subisce queste questioni qui. Da un punto di vista di interesse generale, quindi l'auto emotivo, il bear market lo scorso anno ha stroncato, soprattutto i retail, l'ha devastati, come giustamente si fa per chi non ha esperienze di trading e per chi ragiona seguendo, magari solo l'istinto, non ha la formazione adatta per gestire quelli che sono i lati psicologici del trading e degli investimenti, o, peggio ancora, si confonde l'investimento col trading, se fossero due cose differenti, i ragionamenti in realtà subiscono le stesse identiche strutture emotive. Quindi i retail, soprattutto, che non sono abituati a questi ragionamenti, sono stati devastati da quello che è successo nel 2022 e per sé è questa cosa, quindi frena anche gli entusiasmi. In più, ragionate anche sul fatto, ragazzi, che l'attuale situazione con il rialzo dei tassi di interesse crea comunque una situazione ancora da sviluppare per quanto riguarda il dato della recessione e quindi la paura da parte, per esempio, degli investitori che ci sia un crash dei mercati generalizzati, anche old, e quindi, da quel punto di vista, di conseguenza si tenerebbe dietro anche le cripto. Quindi queste strutture hanno un po' minato quella che è la fase nonno da dati di natura analitico-statistica. Perciò, queste fasi vanno considerate. C'è però una serie di fasi positive, anche di valori positivi, che Bitcoin ha affrontato proprio in questo bear market. Primo, ha affrontato crash e fallimenti giganteschi, ne abbiamo parlato n volte, ragazzi, e questo ha indicato che comunque riesce a resistere anche a queste cose. È vero, siamo tornati dietro i 5 anni, la liquidità su i checks è sparita, c'è pochissima liquidità, i mercati sono succubi anche di manipolazioni evidenti, anche a causa della scarsezza e della liquidità. È venuto meno un player come FTX e quindi il mercato ha subito in total il problema del market maker più grosso che c'è insieme a Binance. Perciò, nel momento in cui viene meno anche quello, viene meno la liquidità, i mercati subiscono questo contraccolpo. però hanno resistito. Quindi Bitcoin ha resistito a questa roba qui. E soprattutto ha dato spazio magari ad una fase di, diciamo, accumulazione delle forze. Quindi questi sono dei lati positivi. Perciò, da questi dati, l'idea che Bitcoin possa non andare a fare nuovi massimi non è strutturabile. Perché, ragazzi? Perché una volta che noi abbiamo definito la questione regolamentazione, in realtà Bitcoin non ha tanti ostacoli davanti a sé. Perché? Punto primo, ha subito i fallimenti e già ci sono stati, e li ha retti, e quindi li abbiamo visti. Punto secondo, ha subito un rialzo di tasso di interesse, quindi da un punto di vista magro, è stato, diciamo, sballottato a destra e a sinistra. E questo è stato molto importante e difficilissimo la prima volta che lo assistemamo a una cosa del genere, e l'ha retto. Ma non ci può essere di nuovo, no? Una cosa del genere. Cioè, l'abbiamo già vista, quindi adesso ne parliamo di questa cosa. Punto terzo, c'è la questione regolamentazione che magari deve strutturare tutto quello che manca nella sottoterra, diciamo, sulla parte del sottosuolo per reggere definitivamente i mercati dell'ecritto. Perché una volta che tutti questi queste strutture sono andate a posizionarsi nei loro posti, soprattutto a regolamentazione che manca, noi avremmo attraversato con i mercati dell'ecritto tutti quelli che sono queste fasi importanti. E questo dà la possibilità, magari, a Bitcoin di costruire una nuova fase completamente diversa anche dalle precedenti. E quindi nulla vieta di andare appunto a creare nuovi massimi proprio perché la successiva fase, per esempio, al rialzo dei tassi sarà il ribasso dei tassi di interesse, ragazzi. Non ne parliamo perché ci vorranno uno o due anni, ma quando arriverà i mercati dell'ecritto beneficeranno di questa cosa. Se nel frattempo hanno messo a posto la questione di regolamentazione, e beh, ragazzi, allora lì il tasso di adoption inizierà a salire, cambierà radicalmente anche questo approccio e avremo anche il fiato in poppa perché magari ci sarà la fase di exit del rialzo dei tassi, quindi tassi nuovamente che scendono. Questo sono dati tutti positivi. Tutti questi dati quindi volgono verso sostanzialmente il fatto che Birkheim possa comunque fare nuovi massimi nella prossima bull run e in particolare il nodo principe di questo, l'avete ormai capito, è la regolamentazione, quindi non deve esserci un ban, deve essere fatta una regolamentazione adeguata che possa dare possibilità a questo scritto di svilupparsi anche lato istituzionale e allora lì non avremo più barriere, quello sarà il momento veramente importante, però attenzione alla questione regolamentazione. Lato tecnico, statistico è meno roseo invece dell'altro, però quale dei due è più pesante? In realtà è più pesante il primo perché il dato tecnico-statistico si basa sul passato, però il dato tecnico-statistico ha una sola variabile molto importante che difficilmente il mercato ignorerà a prescindere dai dati di natura fondamentale, andiamola a vedere. Allora ragazzi, allora il dato che si evince intanto in maniera consistente dalle oscillazioni di bitcoin è uno e uno solo, le fasi di rialzo sono sempre più corte rispetto all'entità e all'entità di rialziste precedenti. Questo è un dato oggettivo in termini percentuali perché dipende dal fatto che bitcoin partiva prima da piccoli livelli di capitalizzazione, ora invece ha livelli di capitalizzazione non altissimi ma comunque abbastanza consistenti. Andiamo ad analizzare anche però la durata dei bear market guardate che differenza sostanziale per esempio tra il bear market del giugno 2011 e quello invece del novembre 2013 il primo vero bear market di bitcoin 400 giorni 161 giorni quindi questo già ve la dice lunga come le fasi di ribasso si siano estremamente allungate per esempio quest'altra fase qui è stata molto simile alla bear market del 2014 2015 ed era quello del 2017 2018 l'attuale fase di bear market che è finita a novembre scorso se la facciamo iniziare dal massimo di novembre è durata 360 giorni molto simile 364 vedete alla precedente se invece noi consideriamo il doppio massimo avvenuto in questa fase diventa 500 e passa giorni quindi comunque per correttezza andiamo a utilizzare il vero massimo anche se di pochi migliaia di dollari che è questo qui quindi la struttura della durata dei bear market si è standardizzata nella durata di un ciclo annuale quindi un anno di bitcoin la questione invece un po' diversa è quella legata all'app alle fasi di app nelle fasi di bull precedenti il mercato saliva in maniera più consistente e in maniera più veloce dal minimo del 2011 al massimo del 2014 bitcoin fatto il 57.000% per ovvi motivi valeva pochissimo prima poi nella bull run del 2017 l'11.000 dal minimo del 2015 l'11.730% e nell'ultima bull run quella che ormai magari conoscete un po' tutti semplicemente il 2000% quindi se andate a guardare il tasso di decelerazione dell'impulso di arzista è assolutamente molto consistente questo ci dice anche ci dà anche una risposta più chiara la fase iniziale di bitcoin probabilmente si è andata a esaurire cioè la fase in cui c'era l'hype per la novità era ancora una piccola tecnologia eccetera e quindi aveva margini di crescita di un certo livello ma di un certo livello in termini di potenziale perché era semplicemente molto molto piccolo mentre nel caso attuale quando andiamo a guardare il tasso di crescita di bitcoin non si può più considerare un asset come le attuali magari i cripto quelle minuscole ragazzi quindi un asset speculativo e basta bitcoin è diventato un asset a tutti gli effetti consistente questo ci porta all'idea che un tasso di rialzo di bitcoin magari del 2000% difficilmente ci sarà da questo livello di minimo in particolare ragazzi se andiamo a fare dei calcoli puramente statistici il rialzo dell'ultimo bull run di bitcoin del 2020 è stato pari al 17% del rialzo precedente quindi se volessimo fare i furbetti e dire questo bull salirà del 17% del precedente bull market dovremmo andare a calcolarci appunto il 17% del 2000% ci uscirebbe una fase di rialzo del 370% andiamo a fare i calcoletti e come si vede ragazzi vedete è 240% sul 240% arriviamo in sostanza ai massimi ma teoricamente senza superarli ora questo è il problema di fondo nel rispondere a questa domanda dell'utente perché abbiamo fatto un video intero perché sono due facce di una medaglia completamente diverse quindi da un lato abbiamo tasso d'adoption e quant'altro dall'altro un dato statistico che invece ci dice che superare questa volta i massimi in maniera consistente quindi non andare a fare magari gli 80.000 ma andare a fare i 250.000 dollari ragazzi è più difficile rispetto agli altri anni perché il tasso di accelerazione delle fasi rialziste dell'ecritto si è estremamente ridotto anche per bitcoin quindi o si passa in una nuova fase cioè in una fase in cui bitcoin riceve un adoption come si deve e viene utilizzato totalmente anche come sistema di scambio oppure arriva una nuova innovazione come la stablecoin che oggi stesso stanno iniziando a testare attraverso gli ordinalz eccetera su bitcoin oppure teoricamente se rispetta questa struttura tecnico-statistica la possibilità che si vada a generare un mercato cammello per i prossimi anni è più alta del fatto di avere un pump gigantesco fino a 340.000 dollari ora questi sono dati di serie storiche queste sono analisi di natura aleatoria che noi facciamo in base appunto a serie storiche c'è la parte fondamentale che invece ci dice che bitcoin può fare molto bene nei prossimi anni la parte fondamentale è più importante delle serie storiche ragazzi sul prezzo di un asset in questo caso perciò le carte per superare i massimi ci sono tutte però non sono così chiare come le fasi precedenti perché la fase di rialzo statistico ci dice che è difficile magari salire tantissimo questo impone è anche un'altra riflessione che vi butto lì ragazzi su cosa adesso è importante fare per esempio per moltissimi che investono su questo mercato se forse è arrivato un po' il momento di iniziare a ragionare un po' di più da investitori professionisti e meno da tra virgolette ragazzi scappati di casa lo siamo tutti nei mercati cripto no io lo dico scherzosamente non è un'offesa e quindi ragionare sul fatto che solo l'holding alla cieca non vi porterà niente se effettivamente i mercati iniziano a essere un pochino in versione cammello sarà però ancora consistente invece la possibilità per chi fa investimenti oggettivamente strutturati da professionisti di poter stare su questi mercati magari per tanto tempo anche in maniera ghiotta perché rialzi anche del 350% sono per un investitore pro o un trader o chiunque insomma ragioni in termini professionali molto rilevanti ragazzi e si possono veramente fare tante cose belle quindi un po' io ho il dubbio su questa cosa quindi non ho ancora l'idea del dirvi attenzione holder siamo passati su questa fase voglio vederci chiaro proprio su questi cicli di quest'anno 2023 e poi ragionare insieme a voi come sempre però questo è un bellissimo video uno stratosferico video importantissimo anche sulle aspettative di lungo periodo per bitcoin e secondo me è molto importante anche rifletterci insieme ragazzi al di là della tifoseria perché non è una partita di calcio io sono always long su bitcoin sul lunghissimo periodo quindi sapete come la penso però sono anche un analista e vi ho detto il punto di vista anche dell'analisi fatemi sapere cosa ne pensate ciao ciao